Il go-kart! Oh, 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 no! Mike, sta attento! Cos'è successo? Non lo so, si sono rotti i freni. Ora metterò questi cunei di legno sotto le ruote per evitare che si sposti mentre siamo fuori. Ecco fatto, adesso sono più tranquillo. Mike, io dovrei già essere alla caserma dei pompieri per una lezione sul pronto soccorso. Oh, sì, ho capito, sta arrivando, Ellen. Ehi, mi scusi, io vorrei costruire un go-kart e mi chiedevo se lei poteva aiutarmi. Ecco il progetto. Mi dispiace, ti aiuterei volentieri, ma adesso devo proprio andare, magari più tardi, che ne dici? Ma la prego! Posso almeno prendere del legno? Dai, bel pupazzo, vuoi ballare con me? Lo so che ti piaccio, non puoi dirmi di no. Smettila subito di ballare con il manichino. Questo dovresti prendere più seriamente queste lezioni di pronto soccorso, quindi devi considerare quel manichino come una persona reale. D'accordo, Ellen, scusami. Bene, allora, come stavo dicendo, nel caso di massaggio cardiaco è estremamente importante... Oh, ciao, Norman. Ma che cosa stai facendo? Mi serve un pezzo di corda per il mio go-kart. Ma non puoi prendere quella, serve a tenere la barca attraccata al molo. Aspetta, forse qui ho qualcosa che potresti usare. Andiamo, per favore! Vai di fretta, quanto vedo. Sì, io sto costruendo il miglior go-kart della storia! Beh, che cosa ne dite? Le ruote sono della mia vecchia carrozzina. A me non sembra molto sicuro. Per questo c'è la cintura di sicurezza. Vuoi dire la cintura di tua madre? E anche il casco. Soddisfatti? No, io non sono convinta. Oh, hai ragione. Beh, sì, in effetti non è ancora abbastanza sportivo. Mi serve altro legno. Senti, sarà già tornato tuo padre. Allora, questo è per lei e questo invece è per te. È vero. Che cosa ci fa quello al mio tavolo? Sta pranzando. Helen prima mi ha detto di considerarlo una persona reale. Ma ti ricordo che non è una persona reale. È soltanto un manichino. Ssh, signore! Lei così lo sta offendendo. Pecore sulla strada. Senti questa, Sam. Se proprio lo vuoi sapere, preferisco un bel karaoke, Elvis. Per fortuna abbiamo i freni che funzionano bene. Ma che ci fa, Wall-E, in mezzo alla strada? Evidentemente deve essere scappata da qui. Vieni, Wall-E! Dai, fermati! Il cancello rotto è pericoloso per gli animali e anche per gli automobilisti. Torna qui, Wall-E! Adesso portiamola dai Price. E poi dovremo chiedere a Mike Flood di venire a riparare il cancello. Brava, Wall-E! Ehi, ma come hai fatto, Sam? È, Elvis. Un vecchio trucco da pastori. Ciao, Mike, sono Sam. Ti chiamo perché ho un lavoretto urgente per te. Un cancello dei pascoli da rimettere a posto. Sì, non appena puoi. Grazie. Dai, mamma! Quanto tempo ci vorrà ancora? Lo so che vuoi tornare a giocare con i tuoi amici, ma hai avuto un brutto raffreddore e prima devi guarire. Bene, e adesso un bel bicchiere di latte caldo, d'accordo? Ok, mamma. C'è nessuno? Ehi, è Sam il pompiere! E c'è Wall-E con lui! Adesso vai dentro, Wall-E! Non preoccuparti, Sam, me la terremo d'occhio noi. A Norman farà piacere avere un po' di compagnia. Appena sarà riparato il cancello, ti chiamo, così potrà riportarla al pascolo. Grazie, Dillis. Oh! Non rosicchiare niente, Wall-E! Buongiorno, ragazzi! La carrozza è pronta! Buongiorno, signor Evans! Io voglio l'ultimo sedile! Prossima fermata, la casa di Norman Price. Non ci vorrà molto solo una giustatina. Ah, ecco, questi sono perfetti! Grazie, siete stati un pubblico stupendo! Ops! Helen? Tesoro, senti, oggi farò un po' tardi per pranzo. Buongiorno, Dillis. Dov'è Norman? Oh, è ancora un po' raffreddato. Oh, allora salutalo da parte mia. Sei fortunato, Norman! Fortunato? Io darei la mia paghetta per essere là fuori invece che chiuso qui dentro. Mi dispiace, Wall-E. Mamma dice che devo restare a casa. Doppio pericolo. Squisito come al solito, Bronwyn. Grazie, Sam. Oh, oh, guai in arrivo. Ascolta, Sam, indovina cosa è successo? Oggi abbiamo fatto tantissime gare e le ho vinte tutte io. Tu hai vinto solo quella dei sacchi. Io ho vinto la corsa di velocità, quella dei salti e quella all'indietro. Quanto mi piacerebbe che voi due la smetteste con queste vostre continue gare. Quando Charlie ed io eravamo ragazzi, andavamo in esplorazione nei boschi. Seguivamo le tracce, osservavamo gli uccelli e cercavamo fossili. Era divertente. Andiamo anche noi in esplorazione nei boschi, mamma. Sì, e potremmo chiedere a Mandy e Norman di venire con noi. Sì, mi sembra il modo perfetto di passare un pomeriggio. Vuoi venire con noi, Sam? Mi dispiace, verrei volentieri, ma oggi sono di servizio. No! Mi è venuta un'idea. Vediamo un po' chi di voi due mi porta il reperto più strano ed interessante. D'accordo? Oh, te lo porterò io! No, io! No, io! Ho chiuso! Smetti la radar! Allora, vuoi calmarti adesso? Non così forte la prossima volta, Elvis. Mi scusi, non so che farci, ma vede, signore, io mi entusiasmo un po' troppo quando vinco. Povero radar, mi chiedo perché oggi sia così agitato. Forse sente qualcosa che non va? No, secondo me ha soltanto bisogno di essere addestrato da un esperto in materia. Sì, ma dove lo troviamo? Eccolo qui! Sono io! Andiamo, radar? Vieni? Radar? Ma che gli sarà preso? Oh, non ne ho idea. Comunque, è tutto il giorno che si comporta stranamente. Forse sta arrivando un temporale. Sembra che i cani possano avvertirlo prima. Radar è troppo sensibile, ecco il problema. O forse non è abbastanza coraggioso per lavorare con i pompieri. Guarda, Sara e James. Non fanno che competere in qualsiasi situazione. C'è nessuno! Sta attento, Norman. Non vorrei che tu ci cadessi dentro. Questo a Sam piacerà molto. Io non lo chiamerei certamente un reperto strano o interessante. E in ogni caso non ti entrerebbe mai in tasca. Ehi, ho appena trovato il dente di un dinosauro. Evviva! Questo non lo batterai mai di sicuro. Questa non è una gara, ragazzi. E comunque quello non è un dente di dinosauro. È soltanto un vecchio sasso. La torre in fiamme. È da un po' di tempo che pensavo ad un addestramento di questo tipo. Ora, noi appiccheremo un incendio alla base della torre di addestramento, e cioè qui, per andare a salvare una persona all'ultimo piano, cioè qui. A questo punto, io nomino Sam, responsabile operativo degli autorespiratori, e Penny, ufficiale della sicurezza dell'intera operazione. Sì, signore! Ed io che cosa faccio, signore? Oh no, voglio sperare che non sarò proprio io la persona da salvare. Magari. No, tu sarai il numero due di Sam, e tutti insieme dovrete salvare Dolly. Ma non è il vecchio manichino che abbiamo sempre usato nell'esercitazione? Sì, ma con una parrucca. Non badiamo a spese noi. Nessuno a Pontipandi mi batte a nascondino. Ma scherzi, quando io mi nascondo divento invisibile. Ma che dici? Non è vero. Sentite, io credo che voi siate entrambi molto bravi a nascondervi, e adesso potremmo smetterla di litigare. Ho un'idea, perché non facciamo una bella gara e vediamo una volta per tutte chi è il più bravo tra di voi? Che cosa? D'accordo, Sara e James dovranno provare a trovarci. Io ci sto. E adesso, ragazzi, che vinca il migliore, cioè io. Cerca almeno di non nasconderti in un posto pericoloso, d'accordo? Uno, due, tre. Così dovrebbe bastare, Sam. Senti, Sam, vuoi che faccia in modo che Dolly finga anche di salutarci? Così forse potrebbe essere più emozionante. Fai pure come credi, Elvis. Ecco un buon nascondiglio. Qui non mi troverà nessuno. Vedi, anche a me piace giocare a nascondino, ma Norman e Mandy adesso stanno davvero esagerando. Che cosa vuoi dire? Ti ricordi quando Norman si è nascosto vicino al centro di soccorso alpino? L'abbiamo cercato per tutto il giorno, finché non è dovuto intervenire Tom Thomas. Coraggio, vieni con me, Sara. Andiamo a cercarli lungo il molo. Questa volta troverò un nascondiglio migliore del solito. Allora, li hai trovati? Guardatela, non sembra una vera signorina. Non ti sarai preso una cotta per Dolly? Bene, a questo punto ci siamo meritati un bel tè. Aria calda. Trevor, qualcosa non va? No, Sam, è solo che ci mette un pochino ad accendersi la mattina. Visto? E poi io ho il tocco magico. Oh, Trevor, non senti anche tu questo caldo? Io sto morendo. No, va tutto bene. Poi io preferisco un po' di caldo, la pioggia degli ultimi giorni. Oh, anch'io. Non c'è niente come il sole. Visto che si è rasserenato, oggi pomeriggio io andrò alla ricerca del falco pellegrino. Il falco pellegrino? Io lo conosco. È una specie molto rara e anche la creatura più veloce sulla Terra. Scommetto che tu non lo sapevi. Mi dispiace, Norman, ma non è così. Tu vorresti vederne uno. Ma certo, se soltanto avessi un binocolo. Norman potrebbe aiutarti ad avvistare uno di quei falchi pellicani, Trevor? Si chiamano falchi pellegrini. E poi non ho bisogno di aiuto. Grazie. Ma se vuoi, oggi pomeriggio puoi venire con me, Norman. Davvero? E possono venire anche Mandy e i gemelli con noi? D'accordo. Perché no? Faremo un'osservazione di gruppo. Bene. Adesso fate attenzione, ragazzi. Certo, e anche ragazza. Immaginate che questa sia una scatola di fusibili. Sam, avrei bisogno di un favore. Non adesso, Norman. Non lo vedi che siamo nel bel mezzo di un'esercitazione? Siete stati chiamati per un'emergenza. Allora, a questo punto che cosa fareste? Oh, ecco, è molto facile. Allora, apro la scatola e spengo il fuoco, signore. D'accordo, vediamo che cosa succede. Così ha solo peggiorato le cose. Il nostro Norman ha ragione. L'aria ha alimentato le fiamme e quindi, aprendo la scatola, ho soltanto facilitato la combustione. È chiaro? Io non ci avevo pensato. Sam, per favore, può prestarmi il suo binocolo? Il mio l'ho perso e più tardi Trevor mi porterà in cerca del famoso falco pellegrino. D'accordo, Norman. Ma devi promettermi che ne avrai cura. Sentite, voi lo sapevate che il falco pellegrino può volare ad una velocità di oltre 300 chilometri all'ora? Non ci credo, su serio? Beh, non è proprio così, Norman. La velocità più alta mai registrata è di soli 286 chilometri all'ora. E che aspetto hanno, signor Trevor? Ecco, le piume delle ali sono grigio, scuro e... Ho fatto pellegrino! Scusate, falso allarme. Norman! Allerta sulla spiaggia. Sembra che ci siano delle casse alla deriva nella baia di Pontipadri. Devono essere cadute da qualche nave durante la tempesta, signore. Beh, ora sarà meglio avvertire Charlie Jones. Non vorrei proprio che ne urtasse qualcuna durante la pesca. Sì, io prendo Neptune per fare una ricognizione. Dov'è Cridlington, Sam? Ecco, è in ritardo, signore. Di nuovo? È la terza volta questa settimana. E siamo soltanto a mercoledì. Sono sicuro che ci sarà una buona ragione. Ma non si preoccupi, più tardi andrò a verificare di persona. Bene, finché non si saprà cosa contengono quelle casse, io resterò a terra. E non voglio che voi due andiate sulla spiaggia. Non vorrei che qualcosa di pericoloso arrivasse a riva. Ma papà, oggi è una giornata fantastica! James! Ti prego, io ti prometto che starò attento, va bene papà? D'accordo? Ah, d'accordo, James. Sì! Dai, Sara! Papà ci ha dato il permesso. Andiamo a costruire un grande castello di sabbia. Ma oggi non ho nessuna voglia di costruire un castello di sabbia. E poi, se una di quelle casse arrivasse, arriva! Tu non sei divertente! James! James, torna qui! Io sono divertente. Qui nella baia è tutto a posto, signore. Dà un'occhiata anche davanti al porto, Penny. Ricevuto, signore. Sorpresa! Ciao, Mandy! Sono felice di non essere l'unico sulla spiaggia oggi. Andiamo all'avventura? Oh, ma certo! Bene! Allora, questo è il posto adatto. Guarda! Elvis, ma non è possibile. Elvis, dai, sveglia! Sam, sei davvero tu? La casa sta andando a fuoco! No! Sei soltanto in ritardo, come al solito! Oh, no! La festa della mamma È stato visto del fumo uscire dalle finestre di casa Flood. Oh, santo cielo! Un vicino ha visto uscire del fumo da casa Flood. Sam, accorrete sul posto! Signora Price! Signora Price! Ci apre, la prego! Siamo chiusi. Ma noi vogliamo servire la colazione a letto alla mamma perché è la festa della mamma! Siamo rimasti senza uova! Buona festa della mamma, signora Price! Buona festa della mamma! Anche Norman le ha fatto una sorpresa stamattina. No, io credo che il mio angioletto dorma ancora. Ma oggi dovrebbe rimanere lei a letto. Sì! E Norman dovrebbe prepararle la colazione. Oh, no! Oggi è di nuovo la festa della mamma! Sorpresa! Buona festa della mamma! Oh, Norman! Sei un vero tesoro! No, non è vero! No, le ha soltanto dato una scatola di cereali! Ma ora perché non tornate da vostra madre? Oggi non dovevate prepararle la colazione! Sentiamo! Quali altre sorprese hai in serbo per la tua mamma, Norman? Non lo so! Adesso vado un po' sullo skate! Ciao! Mi dispiace, ma ho paura che sia stato un falso allarme. Stamattina Mandy ha preparato la colazione per la madre. E lui mi ha aiutato! È lui che ha bruciato il toast! Io non l'ho affatto bruciato! Ho soltanto dimenticato che era nel tostapane tutto qui! Posso offrirvi un toast, ragazzi? Stavolta non lo brucio, promesso! No, grazie, Mike. Adesso dobbiamo tornare in caserma, nel caso arrivasse un altro allarme. Ciao, Mandy! Ti va di andare un po' sullo skate oggi? Mi dispiace, Norman, ma ora voglio stare con la mamma. È la sua festa, non lo sai? Tu oggi hai fatto qualcosa di carino per tua madre? Certo! Le ho dato una scatola di cereali. Norman, ora penserà che non ti importa niente di lei. Guarda, Mandy mi ha costruito questo stupendo portacarte. Pensa, ne stavo facendo uno anch'io! Al lupo! Al lupo! Oh, grazie, Sam. Mi sento più sicura con un rilevatore di fumo. Non c'è nessun problema, Dillis. Adesso lo provo e poi tornerò in caserma. Norman Price, quante altre volte dovrò ripeterti di andare a giocare fuori? Non posso, oggi c'è troppo vento fuori. Sam, aiuto! Al fuoco! Al fuoco! Sta tranquilla, Dillis. Sto solo provando il rilevatore di fumo. Se scoppiasse un incendio, devi rompere quel vetrino. Ma ricordati soltanto in caso di un incendio. Norman, vai fuori! Via! Oh, so già che combinerà qualche guaio con quel pallone. C'è davvero troppo vento per giocare fuori. Norman Price scarta il terzino. Si libera del centrocappista che l'ha seguito. Si porta al limite dell'area, tira e... Oh, accidenti! Oh, un incendio al supermercato di Dillis? Incendio al supermercato Cat Price, Sam! Fate in fretta! Oh, no! È scattato all'improvviso da solo! Non vedo fumo, ne sento puzza di bruciato. Non sono un investigatore. Ma io non credo che il rilevatore di fumo sia scattato da solo. Vuoi dire... Norman! Oh, quel ragazzaccio! Qualcuno ha fatto dei danni qui. Sì, sono stati i gabbiani, o almeno credo. Forse avevano fame. Potrebbe anche essere stata una volpe. Ho appena scoperto una tana vicino al centro di soccorso alpino. Io adoro le volpi. Sono così... Ecco... Carine! In realtà va pazza per gli animali di qualunque genere. Oh, e allora siamo in due. Hai visto dove è finito il mio pallone, mamma? Una situazione appiccicosa. Ma come avrà fatto un incendio a scatenarsi proprio qui, Sam? Come ben sai, anche i raggi del sole possono provocare un incendio. In particolare se passano attraverso un vetro o un pezzo di plastica in una giornata calda come questa. In effetti sto morendo di caldo. Perché adesso non mi innaffi con l'idrante, Sam? Penso proprio di avere un'idea migliore della tua per rinfrescarci. Che ne dici di un bel tè ghiacciato? Adesso vado subito a prendere un po' di ghiaccio al supermercato. Oh, oh, oh. Io vado sull'ottovolante E scendo giù alla velo. Oh! Per fortuna che ero qui, Norman. Va tutto bene, Trevor? Hai corso un bel rischio. Ascoltare musica con le cuffiette mentre si attraversa la strada è molto pericoloso. Non senti quando arrivano le macchine. Mi dispiace, Sam. Io stavo solo provando il mio nuovo lettore MP3. Mia mamma me l'ha regalato per il mio compleanno! Parla più piano! Stai urlando! Oh! Chiedo scusa! È un bellissimo regalo di compleanno, Norman. Ma io ti suggerisco di usarlo soltanto lontano dal traffico. Ma... Norman! Ciao, Mandy! Ti stavo cercando. Ti ho portato un regalo di compleanno. Davvero? Fammelo vedere. L'ha lasciato adesso da tua madre. Andiamo! Questi ragazzi di oggi... Mamma! Mamma! Dov'è il mio regalo? Non dirmi che sei già riuscito a perderlo. No, mamma. Io non sto parlando del tuo regalo, ma di quello che mi ha fatto Mandy. Oh, ma certo! Eccolo qua, tesoro. Buon compleanno! Oh! Un aeroplano! Forte! Ehi! Ma... Ma è da montare! Lo credo bene, è un modellino. L'idea è di mio padre. Ecco, qui ci sono le istruzioni. Prima si incollano i vari pezzi, poi si dipingono e l'aereo è pronto. Allora vado subito a montarlo. Di grazie a Mandy! Di grazie a Mandy! Oh! Norman! Tesoro, hai lasciato il lettore M3P! Questi pezzi sono troppo piccoli. Io avrei bisogno di una lente di ingrandimento per vederli bene. Ecco! Adesso va molto meglio. Guarda le eliche! Oh! Chissà dove andrà questo pezzo. Ma perché prima non leggi le istruzioni? È inutile! Tanto ho già capito come si fa a montarlo. Dinosauro! Ciao, Norman! Cerchi un tesoro? Sì! Ma finora ho trovato solo pezzi di legno. Guarda! Io ho trovato un fossile. Oh! È un'ammonite. Ed è vecchia di milioni di anni. Più antica ancora dei dinosauri. Forte! Peccato però che non sia un dinosauro. In questa zona ce n'erano, lo sai? E si possono vedere ancora le loro orme impresse nella pietra. Guarda, come questa. Wow! Ora andrò in cerca di impronte di dinosauro. Dove vai, Norman? Non è proprio il caso. La marea sta salendo e ti ritroveresti nei guai. Non importa. Tieni. Ti regalo la mia ammonite, d'accordo? Davvero? Grazie, Trevor. Ben fatto, ragazzi. E anche... Ragazza, ora l'incendio è domato. Ma guardate lassù. Non si preoccupi, signore. Quello è soltanto un manichino. Lo prendo io, signore. Anche i manichini vanno salvati, Cridlington. E in queste situazioni è molto importante saperli sollevare. Sam adesso ci mostrerà come procedere. Nota come un buon pompiere è sempre ben saldo sui suoi piedi. Capitano Steel, va tutto bene, signore? Quasi. James! Sara! Ho qui qualcosa che scommetto voi non avete mai visto. E che cos'è? Guardate, è un piccolo di dinosauro. Ma quello non è un dinosauro. Quella è un ammonite. Ce ne sono tantissime qui intorno. Non sapevo che voi foste così intelligenti. Ma scommetto che non avete mai visto un vero dinosauro. Ma certo che no. Ormai non ce ne sono più ai giorni nostri. E invece sì. Io ne ho appena visto uno sulla spiaggia e so anche dove vive. Non è vero. Glielo farò vedere io. Dovrebbe tenerlo a riposo per qualche giorno. Il problema è il legamento. Oh, sciocchezze. Io ho un lavoro da portare avanti. E comunque mi sento in forma come quello. Forse un po' di riposo mi farà bene. Ecco, sì, farò così. È molto meglio così, signore. Mi creda. Bene, ecco fatto. E adesso ritorniamo alla spiaggia. Finito. Finalmente delle impronte di dinosauro. Scommetto che adesso i gemelli le scambieranno per vere. La gara di pesca. Ah, allora porti i ragazzi a pescare. Sopra così, Dillis. Io glielo avevo promesso. Esatto, oggi faremo una gara. Sì, a chi pescherà il pesce più grande. Tra questi due diventa sempre tutto una gara. Il mio Norman è un pescatore provetto, vero tesoro? Ma certo. Una volta ho preso uno squalo grande quasi come tutta questa stanza. Oh, è vero. Era gigantesco. Quanto avrei voluto vederlo, ma gli è scappato. Non è così, Norman? Strano come siano sempre le prede più grosse a scappare. Ma invece è vero. Oggi portatemi a pescare con voi e scommettiamo che prenderò il pesce più grosso di tutti. Scommetto di no. Impossibile. E va bene, Norman. Io ci sto. Vogliamo andare? Io, ecco. Mi lasci solo il tempo di prendere un maglione. D'accordo. Allora ti aspetto in barca tra cinque minuti. Prendetene uno anche per me. Non ti sporgere troppo, Norman. Siediti, per favore. Posso mettermi al timone? Sì, magari più tardi. Ecco, oggi ci fermeremo qui. Ecco. Tieni, è già pronto. Ho messo l'esca. Oh, attento agli ami. Fungono. Norman, vuoi tenere ferma quella lenza o spaventerai tutti i pesci? Ho preso qualcosa! Io avevo preso qualcosa, dico davvero. Ed era grande così. Sì, lo sappiamo. E poi è scappato. Un altro sgombro. Ben fatto. Comunque, Sara, il mio era più grosso. Andiamo, James. Questo è molto più grosso. Fatemi vedere i pesci che avete pescato e io li misurerò. Oh, ma sono proprio della stessa misura. È gigantesco. E stavolta non mi scapperà di più. Questo è il più grande di tutti. E stasera lo mangeremo per cena. Oh, ed è già pronto da cucinare. Sei andato a pesca nel freezer, per caso? Oh, sei un imbroglione. Era solo uno scherzo. Tirate sulle lenze, ragazzi. Sta salendo la marea ed è ora di rientrare a casa. Comunque, ho vinto io perché ho preso più pesci di Sara. Non è giusto. La gara ci prendeva il pesci. Let's go. Oh, mamma. Eri davvero bellissima. È una fotografia del nostro matrimonio, 15 anni fa. E sai una cosa, mamma? Io ho invitato alcuni dei nostri amici più cari per festeggiare il nostro anniversario, in giardino, stasera. Papà e Elvis ti canteranno una canzone. Shhh, Mandy! Ops, stupendo. Preparerò qualcosa. Tu non farai niente del genere. Oggi penserò io a tutto. Hai capito bene? A tutto, ho detto. Sono in ritardo. Mi scusi tanto. In ritardo? Non è certo da te, Elvis. Ecco, ho dovuto comprare un nuovo rilevatore di fumo per Dillis, signore. Mi l'aveva chiesto Sam e che cosa dovevo fare adesso? Ah, sì! Le salsicce! Ma perché? Hai tutta questa fredda. Oh, devo prepararmi per la festa di anniversario dei Flood. Sam, Mike ed io abbiamo scritto una canzone per Ellen. Ciao Elvis, hai comprato quel rilevatore di fumo? Ma certo che l'ho comprato, Sam. Eccolo! Grazie e auguri per stasera. Oh, grazie Sam. Ci vediamo! Elvis! Grazie, Sam. A dopo! Oh, è così gentile da parte tua. Non c'è problema. E poi non potevamo certo lasciarti senza rilevatore di fumo, giusto? Me lo passeresti, Norman? Oh, ma che succede ora? Certo che è strano come rilevatore di fumo. Elvis! Torno subito. È importante che i cavi elettrici siano a riparo. Vedi? Così nessuno potrà inciamparci. Bene. E ora ecco il momento della verità. Stupendo! Oh, è fantastico. E guardate qui, io ho portato le salsicce. Ma quali salsicce? È un rilevatore di fumo. Chiedo scusa. Torno subito. Elvis, sei sempre il solito. Ma non posso crederci, sta per piovere. Non può essere. Invece sì, svelta. Portiamo tutto dentro. Appena in tempo. Hai visto Elvis per caso? Mi ha dato le salsicce invece del rilevatore di fumo. Scusa, Sam. Scusa, Sam. Questione di fiuto. Allora, guarda bene, Elvis. Attento, radar. Rotola! Visto? Ho fatto un corso per istruttori. Sarò anche vecchio, ma non trascuro mai di imparare cose nuove. Oh, sa rotolare anche lei, signore. Molto divertente. Ascolta, ho lasciato sul tavolo in cucina il pranzo per tutti, ma sarà meglio che tu lo ricordi a papà. Mamma, perché dovrei ricordare a papà del suo pranzo? Perché tuo padre è talmente distratto che dimentica qualunque cosa. Non è vero, non è vero. Ciao, Mike. Sto andando a fare una bella passeggiata sulla collina. E se non sono tornata per cena, mandate pure una pattuglia. Non dimenticarti di tagliare il prato. Vedrai che ti piacerà. Le escursioni in montagna sono stupende. Ma ti porti sempre dietro tutta questa roba. È sempre meglio essere preparati. Sì, e scommetto che tu hai il kit per il pronto soccorso. È vero. Ormai lo prendo senza neanche pensarci. Comunque ho portato anche da mangiare. Perfetto. D'accordo. Allora adesso possiamo anche andare. Forza. Scusa. Questo lo faccio sempre senza pensarci. Figurati. Comunque io scenderei per le scale. Sai, ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Ciao, Sam. Elvis. Ehi, ciao, Sam. Io sto cercando di ricordargli come sci rotola. Ricordargli? Io non sapevo neppure che riuscisse a farlo. Ma scherzi, guarda. Rotolati, radar. E bravo, bello. È il giorno ideale per una passeggiata. Ecco che cosa avevo dimenticato. Di controllare le previsioni meteo. Quelle posso dartele anche io. Sole e bel tempo. Guarda il cielo. A volte in montagna il tempo cambia molto rapidamente. Per questo controllo sempre le previsioni prima di uscire. Se siamo dove credo che siamo, da quella cresta dovremmo godere di una vista stupenda. Dai, forza, andiamo a vedere. Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai. Su forza, chiama Sam. Il pompiere adesso arriva Sam. Il pompiere è contro di noi. Sam è con te quando vuoi. Attenti ai fuochi. Fuochi d'artificio? Ma dove li hai trovati? Ah, in laboratorio. Questi sono fantastici. Attento, i fuochi d'artificio possono essere molto pericolosi. Adesso ricordo. Li avevamo comprati per il capodanno, ma poi è piovuto. Potremmo usarli stasera? No, e per favore, soltanto quelli piccoli. Oh, d'accordo, perché no? Invitate i gemelli e anche Sam. Fa sempre comodo avere un pompiere in queste situazioni. Per sicurezza, non vi pare? Oh, grazie papà, sei il migliore. È incredibile, ma che ore sono? Possibile che oggi non succeda niente. Di cosa ti lamenti? Vuol dire che tutti a Pontipandi sono al sicuro. Evidentemente sono stati efficaci gli opuscoli che abbiamo fatto circolare. Se continua così, ci ritroveremo senza lavoro. Io vorrei fare il giocoliere in un circo. Oh, ci picchia. È meglio di no. Ehi, indovidate un po'. Stiamo organizzando una... Norman Price, tu hai idea di quanto tempo avessi impiegato a costruirlo? Non è stata colpa mia. Ora andiamo fuori, eh? Fuochi d'artificio a casa tua, Mandy. Mi piacerebbe tanto, ma non posso, mi dispiace. Sono di servizio stasera. È meglio che leggiate questo opuscolo sulla sicurezza. Un momento. Seguite i miei dieci consigli e filerà tutto quanto liscio. Non accendete fuochi d'artificio nel vostro giardino. E comunque utilizzate solo sostegno a norma di legge. Eh? Ma tu non hai sostegno a norma di legge. Quindi ora che cosa facciamo? Hai ragione. Sarà meglio che papà non lo legga. Tanto lui sa già tutto sulla sicurezza. Sì, non fa altro che parlarne, questo è sicuro. Se l'allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei guai ti caccerai Sempre Sam tu troverai Su forza che ama Sam